Amici collezionisti e non solo, benvenuti in quest'altro spacchettamento di FF365 Adesso andiamo ad aprire subito la prima bustina E troviamo un telar con la maglia dell'Ajax Martinez Varela del Benfica Mario Rui del Napoli, ex Roma E troviamo questa figurina di Ronaldo che si attacca alle prime pagine dell'album E se non sbaglio questo è il doppione Andiamo ad aprire il secondo pacchetto Locatelli del Milan Valdez Fernando Gago Ex Roma, ex Real Madrid Molti se lo ricorderanno nella capitale Poi Promes E la figurina Della Coppa Under 20 Di calcio femminile Terza bustina Troviamo Lo scudetto della Juventus Bellissimo Proprio belli questi scudetti Poi La figurina di Codin Dell'Atletico di Madrid Carvajal De Real Madrid Isco De Real Madrid Doppione E la figurina numero 1 Lo stemma di FIFA 365 Anche questa ce l'ho a doppione Bustina numero 3 Numero 4 Uzzipicca Dello Schalke 04 Kalla Del Benfica Eh scusate Del Del Basilea Poi troviamo Taglas Costa Della Juventus Gicchia Dello Spartak Mosca E la Mille Sonne Dello Spartak Mosca Quinta è l'ultima bustina La maglia dell'Atletico Madrid Anche questa Se ho sbagliato Doppione Casco Rachel Battsuja Del Chelsea E il John Book Hyundai Anche questa Se non sbaglio Doppione Ok Adesso andiamo avanti Con Il cello Mi manca Allora Andiamo ad attaccare Le figurine Sul nostro album La numero 1 Come abbiamo visto E' doppione Come mi ricordavo Bene E quindi niente Quindi cello La numero 11 E' doppione Questa parte qui Di questa figurina Di Ronaldo Dove c'è questa parte Che è relativa a Ronaldo E quest'altra Relativa a Messi Poi abbiamo La numero 33 Che è Gago Che mi manca Eccolo qua Gago Del Boga Junior Ci manca Abbiamo Numero 50 Ce l'ho Qui sotto Ecco qui Il doppione Poi abbiamo Numero 53 Qui sopra Mi manca Che è Martinez 73 Mi manca Che è Russel Poi abbiamo Numero 126 Che anche questa Memoria Eh invece La memoria Miente Perché mi manca Quindi questa Qui che è la coppa Del calcio femminile No Questa è l'under 20 Ormai Non è quello femminile Mi manca L'under 20 maschile Eccolo qua Mi manca Poi abbiamo 151 Che mi manca Qui sotto Che è Batusuviai Del Chelsea Poi andiamo A 153 Che è L'Atletico Di Madrid E Come vedete La maglietta Doppione Anche questa A memoria Mi ricordavo 156 Godin No Mi manca 199 Carvalial Del Real Madrid Mi manca Isco Ce l'ho Doppione 324 324 324 E poi abbiamo Del Milan Con E50 Locatelli 324 Quindi andiamo a 324 Che è Lo stemma Che è lo stemma Della Juventus Che mi manca E anche Anche 338 Che da classe Costa Mi manca Poi c'è Poi c'è Napoli 351 Che è Mario Rui Qui c'è la pagina Della Roma 390 C'è lo Spartak Mosca Che va qui sotto Poi 402 C'è lo doppione Del club America Eccolo qui Valdez Dopodiché 434 Invece Untelar Mi manca 439 Varela Quartiere Del Benfica Mi manca 464 Dello Spartak Ce l'ho Gicchia E 474 Mi manca Poi del Basilea 492 Ce l'ho Eccolo qua La calla E poi abbiamo Una 524 Che ce l'ho Eccolo qui A questo punto Vi saluto a tutti Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un like Ci vediamo Nei prossimi video Ciao a tutti